Noi chiediamo che il Governo se ne vada a casa. Ma come fate? Quali sono i numeri? E la Camera sa benissimo che i numeri per una mozione del genere non ci sono. Non sono presentate a fare. Noi dobbiamo, a parte che adesso vediamo dove presentarla, ma tenete presente che la mozione di sfiducia in questo momento si presenta in una fase in cui il Governo è molto debole. E noi ci aspettiamo anche da chi dice di combattere internamente Renzi che votino questa mozione.